Tutti e due molto amati dal pubblico, tutti e due uomini della porta accanto, niente del divo, tutto dell'uomo comune. Horst Tappert è stato l'ispettore Derrick per il pubblico televisivo di 120 paesi del mondo. Gentile e distretto, indaga con molte telefonate e pochi inseguimenti. 281 episodi, esterni girati nelle vere strade di Monaco di Baviera, interni dentro case vere. Unica cosa finta, il parrucchino dell'attore Tappert, contabile e pugile in gioventù, poi arrivato al teatro e al cinema, infine gloriosamente planato in tv in un ruolo che lo ha reso il tedesco con più fan al mondo. Scarso successo di critica, ma molta audience anche in Italia, dove l'ispettore debuttò nel 1979. Di Tappert i biografi segnalano tre mogli, i tre figli e una passione per il silenzio dei ghiacciai del circolo polare artico dove andava in vacanza.